Ciao e benvenuta in Cosmic Guide, la mia rubrica astrologica per risvegliare la tua divina essenza come guida per te stessa e anche per gli altri. Io sono Jessica Pellegrino, mi definisco una Divine Manifestor e ti guiderò in questo viaggio multidimensionale dove uniremo astrologia, manifestazione e maestria cosmica per rendere la spiritualità una pratica concreta ed energia universale il tuo canale di manifestazione e crescita sia personale che imprenditoriale. E a partire dal 18 settembre alle 4.34 ci sarà la luna piena nel segno dei pesci, un momento di grande sensibilità e connessione spirituale. La luna piena rappresenta infatti l'apice di un ciclo lunare, un tempo di illuminazione e di realizzazione e in un segno così mistico come i pesci ci invita a guardare dentro di noi, a esplorare il nostro mondo interiore e lasciarci guidare dall'intuizione. Ma andiamo in più in profondità a scoprire il significato di questa luna piena, poiché la luna piena in pesci porta con sé un'energia profonda e spirituale. I pesci sono legati al regno dell'inconscio, dei sogni, della creatività e sotto questa luna siamo chiamati a rilasciare tutto ciò che non ci serve più, specialmente a livello emotivo. È un momento di guarigione e di riconnessione con il nostro lato più intuitivo e spirituale. Questa luna piena può portare a grandi rivelazioni emotive ma anche a un senso di confusione o incertezza se non siamo abituati a lavorare con per esempio delle energie di questo tipo che sono più fluide e più mistiche se vogliamo. È un invito a fidarci del nostro intuito e a lasciare andare le aspettative più rigide. Ma come potremmo percepire questa energia? Potremmo sentirci più emotive del solito, più aperte alle influenze sottili intorno a noi. Potremmo avere sogni più intensi, intuizioni improvvise o anche una sensazione di connessione profonda con il tutto. Tutto ciò potrebbe essere comune in questo periodo ma allo stesso tempo potremmo sperimentare una certa vulnerabilità come se i confini tra te e il mondo esterno fossero meno definiti. E questo è un momento potente per esplorare il tuo lato più creativo e intuitivo ma può anche richiedere uno sforzo per rimanere ancorata alla realtà. E andiamo a scoprire insieme come tutto questo ci porta a vivere in un certo modo questo tipo di energia. Intanto vediamo che la luna piena in pesci ci invita ad ascoltare il nostro intuito, quindi dedica del tempo a riflettere sui messaggi che ricevi dal tuo inconscio o in canalizzazione o anche dai tuoi sogni. Puoi meditare o praticare con delle tecniche di visualizzazione per connetterti più profondamente alla tua guida interiore. Questa luna è perfetta per rilasciare le emozioni che hai trattenuto finora. Potresti fare un rituale di rilascio per esempio dove di consueto puoi scrivere tutto ciò che vuoi lasciare andare e puoi bruciare il foglio come simbolo di liberazione e puoi approfittare di questo momento per immergerti in attività creative come la scrittura, la pittura o la musica lasciando che la tua immaginazione guidi il processo e lasciati quindi ispirare dal flusso di energia che ci porta a questo segno dei pesci. E poiché i pesci sono legati alla guarigione spirituale questo è un ottimo momento per praticare le tecniche di guarigione o per ricevere dei trattamenti energetici come il reiki per esempio. E a tutto questo aggiungiamo dei consigli cosmici per risvegliare la tua guida interiore cominciando dall'uso dei cristalli come la metista o la labratorite che favoriscono la connessione con il regno spirituale e con l'intuizione. tienili vicino mentre mediti o mentre dormi oppure indossali come gioielli come bijoux che possono comunque oltre a rinnovare il tuo stile anche a darti quell'energia necessaria a vivere il tuo quotidiano. E poi puoi fare anche un bel rituale con un bagno fatto con il sale marino e gli oli essenziali come la lavanda o il sandalo per purificare la tua energia e connetterti al flusso dell'acqua che è un elemento dominante dei pesci. E durante questa luna piena puoi anche tenere un diario dei sogni per annotare qualsiasi messaggio o simbolo importante che potrebbe emergere dal tuo inconscio. E concludiamo questo momento insieme con la consueta estrazione di una runa e di una carta. Cominciando dalla runa che ho pescato per te, questa è la runa laguz che rappresenta il flusso, l'acqua e l'intuizione. Laguz ci invita a lasciarci andare e a fluire con le energie della luna piena. E a questa runa aggiungiamo una bellissima carta dei tarocchi, ovvero la stella. Le stelle simboleggiano la speranza, la guarigione e la connessione spirituale. Ti ricorda di fidarti dell'universo e di rimanere aperta alle infinite possibilità. Fammi sapere se queste informazioni ti risuonano e intanto ti do appuntamento al prossimo episodio. E se desideri anche tu connetterti alle energie universali per risvegliare la tua guida interiore, puoi iscriverti al corso gratuito Multidimensional Guide. Trovi il link qui in descrizione oppure ti basta andare su jessicapellegrino.com slash multidimensional trattino meno guide. Io ti aspetto braccio aperte e intanto grazie per essere rimasta qui con me. Bacio grande, ciao!